Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Senti che bel vento, l'aria è fantastica qua, si sta benissimo. Grazie. Ci siete? Siete ancora? Fatemi sentire. Ancora? Raghi, adesso arriva una canzone che è… Eccora! Siamo solo noi Cambiamo a letto una mattina a tre Ci svegliamo con il mal di testa Siamo solo noi Che non abbiamo vita regolare Che non ci sappiamo limitare Siamo solo noi Quelli che non ho più rispetto per niente Neanche per la mente Siamo solo noi Quelli che poi muoiono presto E che fanno lo stesso Fatti i casi voi Fatti i casi voi Fatti i casi voi Fatti i casi voi Siamo solo noi Fatti i casi voi 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 Un numero internazionale, un grandissimo giocogliere con i suoi rulli di tamburo ci ha fatto letteralmente sognare alla batteria Max James! Lui volteggia tra i tasti bianchi e i tasti neri, guardatelo, un vero trapezista, ma che trapezista, un vero diavolo volante, le tastiere di El Lupo Marimano, Alberto Rocchetti! Il circo è senza la magia, la prestidigitazione, potrei dire, che ne so, abracadabra, troppo semplice, direi, Sator Alepo Tenet Opera Rotas, la formula molto magica e molto difficile, perché molto difficile è fare gli arrangiamenti, fare la direzione musicale, cantare il nostro, udividere la chitarra, Mr. Pitcher! Il fantasista, lo dice la parola stessa, fantasista, in qualsiasi momento trova sempre il modo di, direi, di far bruciare i nostri cuori, qualsiasi nota, lui fa sul manico della sua chitarra, è poesia, amore! Signore e signori, Mr. Stammer!